Buongiorno dottor Ferrante, oggi è con noi il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Buongiorno innanzitutto grazie per la sua disponibilità. L'ospedale di Benevento è stato il primo nel sud Italia a dotarsi di un sistema robotico per la disinfezione delle superfici per prevenire, quindi la diffusione del contagio da coronavirus all'interno degli ambienti ospedalieri. Ci racconta dottore come è nata la volontà di dotarsi di una tecnologia di questo tipo? Mi sono trovato ad avere una presentazione di questo prodotto e diciamo l'ho fatto subito mio. Contestualmente si è trovato il problema del Covid-19 da affrontare e quindi ho detto 2 più 2 fanno 4. Va bene per l'uno e va bene per l'altro. Ecco perché subito l'ho chiesto se riuscivo ad avere questo prodotto in pochi giorni e quindi quando ci siamo trovati all'inizio in pieno Covid-19 mi sono trovato già l'apparente. Quindi che cosa ci ha comportato? Che noi non ci siamo mai fermati come ospedale. Quindi ancora prima di gestire l'emergenza avete giocato diciamo d'anticipo sull'emergenza e questo vi ha dato senz'altro un buon margine d'azione preventiva. Sì, ci siamo trovati a poter lavorare con più serenità in quanto i problemi e le criticità che naturalmente emergono in emergenza. Siamo riusciti a tamponarle man mano che si presentano. Benissimo. Dottore la ringrazio molto, la ringrazio per il suo tempo. Io chiudo l'intervista dicendo che andrà tutto bene e la inviterei a fare lo stesso. Sicuramente andrà tutto bene. Sicuramente andrà tutto bene.